Il 14 gennaio 2005, la sonda Huygens dell'Agenzia Spaziale Europea è precipitata attraverso le spesse nubi della più grande luna di Saturno, Titano. È atterrata con successo sulla misteriosa superficie più di due ore dopo, catturando per 72 minuti immagine dopo immagine, prima di perdere il contatto con la sua navicella spaziale madre, Cassini. Cassini era il suo unico collegamento con la Terra. Era in orbita attorno a Saturno, sopra Huygens. Durante questo breve periodo di tempo, attraversando i cieli di Titano e atterrando sulla sua superficie, Huygens è riuscita a trasmettere centinaia di incredibili immagini che rivelano la grande luna come mai prima d'ora. Più di 17 anni dopo, queste immagini sono ancora le migliori che abbiamo dalla superficie di Titano, la luna più simile alla Terra del Sistema Solare. Huygens è stato il primo e attualmente unico veicolo spaziale ad atterrare con successo su un altro mondo nel Sistema Solare esterno. Ha compiuto un epico viaggio di sette anni verso Saturno attaccata al lato della navicella spaziale Cassini della NASA, prima di essere lasciata cadere nella fitta foschia che circonda la misteriosa luna. Quando la sonda Huygens si è tuffata nell'atmosfera di Titano nel 2005, nessuno sapeva cosa aspettarsi. Sarebbe precipitata in un profondo oceano alieno? Forse in una fossa di sabbie mobili? Oppure contro rocce frastagliate precipitando da un ripido burrone? Una cosa ne era certa, Titano era un mistero. A parte un brevissimo passaggio di Pioneer 11, Voyager 1 e Voyager 2 molti anni prima, si sapeva poco della grande luna. Nessuno poteva immaginare ciò che la sonda di discesa Huygens avrebbe trovato. La densa atmosfera di Titano rende straordinariamente difficile studiarlo da lontano. Attraverso la maggior parte dei nostri telescopi sembra una palla arancione sfocata, ma grazie a Cassini e Huygens ora sappiamo che Titano è una luna diversa dalle altre. Stranamente, Titano potrebbe essere il mondo più simile alla Terra là fuori. È l'unico altro posto che conosciamo che ha liquidi sulla sua superficie, ma nel caso di Titano non è l'acqua come la conosciamo, ma invece principalmente metano liquido che riempie i mari, scorre nei fiumi e persino piove dal cielo. Tuttavia, fa così freddo che la vita come la conosciamo non potrebbe esistere. Infatti, le montagne e le valli sono fatte di spessi strati di ghiaccio d'acqua, più duro del granito. Quindi, su un mondo avvolto da un'atmosfera così densa che la sua superficie non poteva essere vista, come poteva Huygens sopravvivere a un atterraggio? Ebbene, la missione non era in realtà quella di far atterrare la sonda, ma piuttosto di indagare sull'atmosfera di Titano, comprese le sue proprietà chimiche, il vento, la temperatura e la pressione. Tuttavia, nella remota possibilità che il veicolo spaziale sarebbe riuscito ad atterrare, il team della missione ha progettato la sonda per molteplici condizioni. Gli ingegneri hanno costruito Huygens abbastanza leggera da galleggiare, nel caso in cui fosse precipitata in un oceano, e con una durata della batteria sufficiente per funzionare almeno per un breve periodo in superficie, supponendo che sarebbe sopravvissuta all'impatto. Ma nel complesso Huygens è stata progettata come una sonda che avrebbe raccolto tutti i suoi dati primari durante la discesa attraverso l'atmosfera di Titano. Qualunque cosa fatta in seguito sarebbe stato un bonus scientifico. Mentre Huygens si tuffava nelle nuvole di Titano e dispiegava il suo paracadute, le sue telecamere iniziarono a catturare immagini incredibili della sua discesa. Questo filmato è stato creato da quelle immagini, e rivela in pochi minuti ciò che Huygens ha visto durante il suo viaggio di 2 ore e 27 minuti attraverso la fitta foschia simile allo smog. All'inizio è visibile solo una sfocatura marrone-arancio, ma man mano che la sonda scende più in profondità, vengono lentamente rivelate grandi caratteristiche mai viste prima. Una valle oscura può essere vista tra regioni collinari più luminose. Oltre le colline a sinistra sono visibili due scure linee parallele, che fanno parte di un vasto sistema di dune che ricoprono la luna. È visibile una complessa rete di canali di drenaggio che taglia il fianco della collina, possibile causa della pioggia di metano che si riversa lungo i suoi pendii. Sfortunatamente, Huygens ha avuto un problema nel programma di comunicazione durante la missione, che ha limitato il numero di immagini che poteva trasmettere a Cassini, passando da 700 a sole 376. Ciò significa che quasi la metà delle immagini scattate è andata persa per sempre. Ma le immagini che è riuscita ad inviare ci permettono ancora di vedere sotto le nuvole di Titano con dettagli senza precedenti, portando Titano da una palla arancione sfocata a un mondo nuovo da scoprire. Dopo la sua turbolenta discesa, Huygens è atterrato sano e salvo in superficie. Fortunatamente non si è schiantato contro rocce appuntite o ghiaccio duro, né si è schiantato in uno dei tanti laghi o mari di Titano. Invece, è caduto dolcemente su un letto di quella che sembra soffice sabbia bagnata fatta di granelli di ghiaccio. Questa è l'unica vista della superficie di Titano mai catturata. L'immagine rivela una pianura circondata da ciottoli e rocce sparse. Sebbene l'immagine non mostri alcun segno dell'attuale metano liquido superficiale, la regione assomiglia molto a un lago prosciugato o al letto di un fiume. In lontananza all'orizzonte sono visibili piccole colline ondulate e tutti i ciottoli sparsi nel paesaggio sono fatti di ghiaccio d'acqua, duro come la roccia. Alla vista dell'atterraggio, Huygens ha misurato una temperatura di meno 180 gradi Celsius, ovvero meno 292 gradi Fahrenheit, con pochissimo vento e nessuna struttura nuvolosa visibile nel cielo. Solo una fitta foschia. Dopo 72 minuti di comunicazione dalla superficie di Titano, alla fine il collegamento con Cassini e con la Terra scomparvero definitivamente. Poco tempo dopo, le batterie di Huygens si sarebbero esaurite e la sonda si sarebbe spenta silenziosamente. Sebbene Huygens sia durata solo poche ore, ha rivelato qualcosa di incredibile. Una luna ghiacciata nel sistema solare esterno, che è più simile alla Terra di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare. E ora che sappiamo dei suoi mari di metano e dell'atmosfera chimicamente complessa, si stanno sviluppando future missioni che esploreranno Titano come mai prima d'ora. La NASA si sta preparando a portare l'esplorazione di Titano a un livello superiore con la missione Dragonfly, il cui lancio è previsto per il 2027 con arrivo su Titano nel 2034. Dragonfly è un piccolo drone progettato per coprire più terreno di un tradizionale lander o rover, facendo brevi voli intorno alla superficie di Titano, simile alla recente missione Ingenuity su Marte. I suoi obiettivi principali sono capire se Titano è, o addirittura è stato, abitabile, cercare una chimica complessa e persino verificare se ci sono segni che questo mondo nebuloso abbia effettivamente ospitato la vita. Dragonfly sarà inoltre dotato di Dragoncam, un set di telecamere microscopiche e panoramiche che riprenderanno immagini del terreno di Titano, catturando nuovi paesaggi di questa straordinaria luna. Spero che questo video ti sia piaciuto, se non l'hai ancora fatto metti un mi piace e iscriviti, ci saranno molti altri video come questo in arrivo. Se non hai finito e vuoi un po' più di spazio, guarda questo video in alto a sinistra, non rimarrai deluso. Grazie per la visione e ci vediamo alla prossima!